Dal dispodismo illuminato si arriva inevitabilmente alla rivoluzione. È la rivoluzione francese 1789. Quale spirito domina nella rivoluzione francese? Lo spirito delle logie, lo spirito massonico. Così scrive Gioele Magaldi, gran maestro del Grande Oriente Democratico, nel suo libro Massoni, uscito nel 2014. È interessante, quello è un libro interessante. Scrive Magaldi. Quasi tutti i club rivoluzionari francesi, fondati da monarchico costituzionali o repubblicani, giacobini moderati o estremisti, girondini o foglianti, cordiglieri o gruppi popolar-radicali avevano una matrice massonica maggioritaria, che nel caso dell'area girondina diventava sovrapposizione totale fra logge e associazionismo politico, civile e culturale. Molto interessante. Questo è un quadro lucido. L'anima della rivoluzione, che è stata, lo vedremo, è stata un'orgia di sangue e di odio su tutta la Francia e che da tutta la Francia si è riversata nel resto d'Europa, naturalmente per liberare l'Europa dalla schiavitù della religione e darla in mano all'imperatore Napoleone che liberava tutti, sicuramente avrebbe liberato tutti. Invece il Grand Oriente di Francia, quindi la valutazione che oggi dà il Grand Oriente di Francia, è che nelle logge al momento della rivoluzione c'erano circa 30.000 fratelli suddivisi in un migliaio di logge, non poche. Sì. Il pensiero di Voltaire e di Locke che l'aveva preparato e di Bacone e di Grozio e di Rousseau, perché Rousseau è un altro di questi che sono fondamentali riferimenti a ogni pensiero totalitario. Perché? Perché Rousseau teorizza una cosa curiosa che si chiama volontà generale e per l'appunto nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino si decreterà la legge è espressione della volontà generale. Ma che sarebbe questa volontà generale? La volontà della maggioranza? Questa è la volontà generale? Non sembrerebbe perché Rousseau la teorizza, è proprio un caposaldo del suo pensiero filosofico. Esiste la volontà generale? Ma lui dice esiste? Beh, non si può sapere se esiste veramente, se è mai esistita. Però la volontà generale è quella che si propone l'interesse comune e pertanto è o deve essere il vero motore del corpo sociale. Chi incarna la volontà generale? Beh, è il patto di unione, sentite, fra uguali questa è la volontà generale che produce l'alienazione totale di ciascun individuo con i suoi diritti alla comunità, dando vita a un corpo morale e collettivo che riceve il suo io comune, la sua vita, la sua volontà dal patto originario. Ecco, con queste astruse fantasie si imporrà la volontà generale, come dice la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, imposta a tutti la rivoluzione in nome di che? In nome della liberté, égalité, fraternité. Questo motto sta scritto ovunque voi andiate in Francia c'è questo motto. Ovunque si magnifica la rivoluzione, vedremo in che cosa è consistita.